Dramma sabato sera a Monteforte. Poco dopo le 23 in via Taverna Campanile si è verificato un investimento mortale a perdere la vita a Gaetano Capone, originario del comune Irpino ma residente da Agni a Savona. L'uomo era tornato a Monteforte per il matrimonio di una nipote. Il sessantenne è stato investito da un'auto di grossa cilindrata. Un impatto tremendo che non gli ha dato scampo. L'uomo è infatti morto sul colpo. La tragedia si è verificata nei pressi dell'abitazione paterna. Il giovane alla guida della vettura si è subito fermato, poi in evidente stato di shock è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto agli esami di routine, un iter necessario in queste circostanze. I carabinieri in queste ore stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La morte di Gaetano Capone che lascia la moglie che era in sua compagnia quando è venuta la tragedia e una figlia a 17enne è arrivata immediatamente a Savona dove il sessantenne era molto conosciuto e stimato. Gaetano Capone era un postino, un volto noto soprattutto per i residenti di via Luigi Corsi. Un uomo buono e per bene, come scrive il sito Ligure e il vostro giornale .it, che ricorda Gaetano, come una sagoma nota che girava per le strade per consegnare la posta nelle cassette dei vari civici a lui affidati. consolerzi e puntualità, sempre con una buona parola per tutti, sempre sollecito ad informarsi dello stato di salute degli anziani che magari vivevano soli, attento alle esigenze degli utenti a cui le capitava la posta.